Nuova impennata di casi giornalieri di positività al covid-19 che va di pari passo con un proporzionale aumento del numero di tamponi processati. Sono 746 le nuove diagnosi da coronavirus riscontrate in 4.766 test molecolari con una percentuale di incidenza dei positivi del 15,6 per cento contro il 15,8 di ieri. I casi odierni hanno età compresa tra 10 mesi e 101 anni e tra questi 449 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 91 di cui 26 in provincia dell'Aquila, 16 in provincia di Pescara, 23 in provincia di Chieti, 26 in provincia di Teramo. Salgono a 15.888 i casi registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Il totale risulta inferiore di una unità in quanto è stato eliminato un caso risultato duplicato. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 26 nuovi casi e sale a 628 di età compresa tra 61 e 94 anni, tutti residenti in provincia dell'Aquila. Nel dato sono compresi 21 decessi riferibili alle scorse tre settimane comunicati oggi dalla Asla Vezzano sul Monal Aquila. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 4.832 dimessi guariti più 163 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 10.428 più 556 rispetto a ieri. Sono 530 più 17 rispetto a ieri i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 46 con un calo di due unità rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre 9.852 persone più 539 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare. Dei 746 nuovi casi, 272 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 178 in provincia di Chieti, 143 in provincia di Pescara, 142 in provincia di Teramo, 19 di fuori regione. Scende di nuove unità il numero dei positivi per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.